Un bilancio fortemente positivo, una valutazione complessiva su quelli che sono i dati riferiti a quest'anno. I dati riferiti a quest'anno sono sicuramente buoni. La Fondazione può vantare un bilancio che va con oltre 335 mila euro di avanzo che ci daranno la possibilità, tenuto conto delle parti che aspettano allo Stato, di poter guardare al futuro in modo diverso. I nostri settori avranno ogni settore quello che gli compete per poter essere vicino alle associazioni e a tutti coloro dei nove comuni su cui opera la Fondazione per poter soddisfare le richieste. Quindi per noi questa è una gioia. Abbiamo anche stabilito una cifra per quello che riguarda progetti personali. Quindi, che dire, meglio di così non si poteva andare. Al di là delle cifre di bilancio che sono state illustrate prima nel corso della conferenza stampa, all'inizio di questo secondo mandato possiamo dare un giudizio positivo per il lavoro che abbiamo fatto e stiamo portando avanti, facendo risalire la Fondazione da quella sacca di mobilismo, di crisi in cui era precipitata e dandogli un maggiore respiro rispetto ad interventi che possiamo fare sul territorio. Però, come ho detto anche prima, la cosa importante è anche una forte credibilità che la Fondazione ha acquisito non soltanto a livello territoriale ma anche a livello ministeriale dell'ACRI dove adesso viene tenuta in considerazione, tenendo conto, come ho detto prima, che sia il Presidente che il Direttore Generale hanno incarichi lì all'interno di questi organismi e quindi questo è il motivo di soddisfazione. Certo, il lavoro che c'è da fare è ancora parecchio. Continueremo a farlo con senso di responsabilità e spirito di sacrificio per ridare credibilità e ossigeno a questa Fondazione che lo merita. I risultati di bilancio sono superiori a 335 mila euro di avanzo di gestione, circa 130 mila euro vengono mandati al rafforzamento patrimoniale, 120 mila euro direttamente per le erogazioni che prevediamo per l'anno prossimo, la parte rimanente fra gli 80 e gli 90 mila euro è un accantonamento prudenziale perché noi questi numeri riusciamo a farli in virtù dell'andamento dei mercati, quindi dobbiamo essere molto sensibili e attenti a quello che fanno i mercati, ci stiamo rendendo conto che quest'anno le problematiche sono grandi, ma sono grandi a livello mondiale, quindi sia per quanto riguarda le economie che per quanto riguarda i mercati finanziari e quindi abbiamo disposto un accantonamento che ci consenta comunque di garantire già da adesso il bando dell'anno prossimo.